Ciao a tutti! prima di farvi gli swatches di tutti gli ombretti passo a farvi vedere il ultima cosa che volevo un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte oggi volevo parlarvi della mia nuova agenda vedi? oddio soffoco oddio soffoco voleva un pate allora ma perchè sei facciccato? agenda che un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte oggi volevo fare questo video per farvi vedere la mia nuova agenda in particolare il me and my no ma tanto non è così che volevo fare questo video dai che cosa e questa è un'altra cosa di cui vi devo parlare no aspetta il nome di Carly Bibel su comunque uno sfondo molto elegante che sembra quasi un divano in pelle con i bottoncini insomma di madre perla e ma che sto a dire? bè vabbè oddio mia posso fare oggi guarda non ce la posso fare un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte oggi volevo parlarvi della palette di illuminanti di Anastasia Berevi ed ha comunque toni all'interno che vanno più su un non lo so non lo troverete online online e e passato che sono passata io boom oh oddio 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 e qui dove ci siamo affondati ieri oddio vai cazzo eh allora noi no andiamo su per di qui che sembra facile ma non è proprio molto facile no zitta 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 che mi piscio sotto ecco ok vai vai guarda sei in diretta vuoi dire qualcosa cosa